La vaccinazione ai bambini nella fascia 5-11 è partita a rilento, di cui l'appello del dottore Enrico Gianzante, direttore del Dipartimento Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ai pediatri di base a parlare, a spiegare alle famiglie l'importanza del vaccino anche in quella fascia di età. C'è anche da dire però che molte persone sono state bloccate dal Covid in casa, molti bambini sono in sorveglianza o hanno il Covid, perché basta guardare la situazione nelle scuole, molte classi sono già in didattica a distanza. Purtroppo la contagiosità della nuova variante ha portato ad un incremento dei contagi e dei ricoveri. Il vaccino rimane l'unica arma. La campagna per i bambini è partita in modo tiepido. A dare le percentuali è il dottore Enrico Gianzante, si riferiscono all'ambito provinciale. È vero la fascia 5-11 anni come vaccinazione ancora non decolla. Cosa cerchiamo di fare, cosa vogliamo fare? Innanzitutto dobbiamo informare e per questo chiediamo l'aiuto dei pediatri che sono i medici fondamentali per poter spiegare l'utilità della vaccinazione. È vero, molti ragazzi, molti bambini soprattutto hanno contratto il Covid e di conseguenza dovranno attendere. Ma quello che è fondamentale è l'informazione. Noi contiamo molto, ripeto ancora una volta, sui colleghi pediatri. Le percentuali sono basse. Nella fascia 5-11 anni che hanno completato il ciclo sono solamente meno del 3% dei bambini e intorno al 13% hanno effettuato almeno una dose, anche se è iniziata da poco tempo. I nostri hub sono comunque sempre a disposizione. Abbiamo ampi slot per le loro vaccinazioni e di conseguenza io credo che sarà solo una questione di tempo e prima o poi dovrà decollare. I numeri sono impietosi. Nell'Aquiliano ci sono più di 5 mila persone in isolamento fiduciario e un po' più di 4 mila in isolamento domiciliare. Numeri che non si erano mai registrati dall'inizio della pandemia. Nella provincia dell'Aquila si vaccina molto e le percentuali superano di poco quelle della media nazionale. Per gli over 50 le richieste sono tante, ora visto l'obbligo, ma la vaccinazione ha avuto una buona risposta anche nella fascia 12-18, dove si è superato l'80%. Oltre a Novax, insomma, lo scoglio da superare è quello dei bambini più piccoli. C'è ancora timore, è un dato comune a quello nazionale e i genitori ancora non prendono coscienza di quanto sia importante la vaccinazione anche per i bambini più piccoli.